Purtroppo non dobbiamo farci illusioni perché il risultato che ha avuto ieri in Baviera la FD, che è un partito che dire nazionalpopulista è poco, un partito di cui i dirigenti dicono che se altri grandi paesi europei esaltano figure come Churchill e Napoleone non si vede perché noi tedeschi non possiamo esaltare Hitler, questo dicono dirigenti importanti di un partito che è presente al Bundestag e che tra alcune settimane purtroppo in un altro land, l'Asia, quello di Francoforte per intenderci, avranno purtroppo un risultato molto diverso da quello tutto sommato mediocre che hanno avuto in Baviera ieri.